Quando sei arrivato? Con quella tempesta. Poco fa. Forza! Allora, come ti chiami? Leif. Leif Erikson. Da dove arrivate? Groenlandia. Sono Harald Sigurdsson. Che cosa ti porta a Kattegat? Sto cercando una persona. L'intero nord è minacciato. Da re d'Inghilterra. Voglio vedere se la battaglia di cui parli mi appartiene. Che cosa hai deciso allora? I vichinghi si preparano a un'invasione. Allora che cosa hai intenzione di fare? Combattere. Cosa vedi in quel groenlandese? Forse il suo coraggio. Il coraggio non è una virtù così rara. Lui è diverso. Hai compiuto un lungo viaggio, Freydis. Una missione importante. Per conoscere il mio destino. Addestrala. Proviamoci ancora. Aprete i cangialli! Siete venuti qui! Per le vostre famiglie! Siete venuti qui! Per il vostro onore! Lanciate! Via! Siete venuti qui! Perché voi siete vichinghi! Per le vostre famiglie! Siete venuti qui! Aaaaaah! Aaaaaah!